Buonasera a tutti, stasera abbiamo qui in redazione da noi a Bologna il leader della Lega Matteo Salvini, al mio fianco il direttore Nico Perrone e alla destra di Salvini Lucia Borgonzoni, che ringrazio perché come dire ci ha dato una mano ad organizzare questo evento, che è una consigliera comunale della Lega Nord e forse ne parleremo, candidata a sindaco per la Lega Bologna. Do la parola al direttore. Allora cominciamo, buonasera segretario, grazie. Cominciamo dal fatto di cronaca, insomma, drammatico di oggi. Questo attentato nel Mali, c'è questa preoccupazione per il Papa che la prossima, cioè a fine mese, sarà in Africa. Cioè era meglio non andare o… Non è mai giusto arrendersi e cambiare abitudine, stile di vita. Io non ho paura e non avrò paura. Certo il Centrafrica in questo momento è terra, è troppo calda, quindi nel rispetto delle scelte di tutti e di tutti penso che sarebbe giusto da parte del Vaticano prendere in considerazione l'ipotesi di rimandare questa visita perché se succedesse qualcosa di io non voglia durante la visita qua veramente si scatena al finimondo. Anche perché la cosa più preoccupante di oggi al dià dei 18 morti per cui c'è da fare silenzio e preghiera è che hanno rilasciato gli ostaggi che recitavano il Corano. Ormai siamo alla distinzione fra fedeli e infedeli che un certo tipo di Islam purtroppo applica alla lettera. Tra poco avremo anche il Giubileo. Lei ha paura di questo appuntamento? No, ripeto, io non voglio avere paura e non avrò paura dei terroristi che verranno sconfitti dalla storia e dal buonsenso. Mi fa più paura la vigliaccheria e l'ipocrisia di certo occidente che tace, che fa finta di niente, che si lava la coscienza con la marcia per la pace, con il minuto di silenzio. Qua ne abbiamo già fatti troppi minuti di silenzio. Qua occorre intervenire, sarà forte da dire, però con certa gente non esiste trattativa possibile. Salvini, lei è un segretario nazionale, lei è anche un europarlamentare, quindi ha una responsabilità nei confronti del Paese, nei confronti dei militanti e degli elettori della Lega. C'è in Italia ormai un clima da psicosi, si susseguono notizie di attentati. Oggi il Presidente del Consiglio è intervenuto addirittura su un messaggio vocale di una pseudomamma che metteva in allerta i bambini da possibili attentati. Lei, che cosa, nelle vesti di un Presidente del Consiglio, che farebbe in questi momenti? L'invito la calma e l'unità è sacrosanto, però mi domanderei perché. Perché siamo arrivati a questo? Perché fino a settimana scorsa, fino alla strage di Parigi, non si è pensato a controllare le frontiere, a verificare le moschee estremiste, ad espellere i tifosi dell'Isis? Perché abbiano dovuto aspettare altri 130 morti per arrivare a questo? Quindi il Presidente del Consiglio, oltre che a invitare la calma, dovrebbe lavorare per la calma. E non mi sembra che in Italia lo stia facendo. Senta Salvini, a me ha colpito molto un'intervista stamattina ripresa dal Corriere della Sera di un filosofo francese. Si chiama Michel Onfray. E lui sostanzialmente paventa azioni di commando dei neonazisti contro le moschee nelle città europee per destabilizzare la democrazia. Io volevo sapere, lei da leader politico, su questo scenario è possibile perché la rivolta delle banliee non è un fatto nuovo. È un fatto nuovo quello che è successo venerdì scorso. Ma si possono fronteggiare nelle periferie delle città europee questi due schieramenti. Lei dal punto di vista del linguaggio anche della politica. Che contributo si sente di dare? La violenza non è mai ammessa, concessa e giustificata. Può venire dall'islamico, può venire dal neonazista. Non è quella violenza... Ma lei lo ritiene uno scenario possibile o no? Spero di no. È una preoccupazione. Perché la legge della fisica è che ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria. Spero di no e farò di tutto perché ciò non accada. Perché sono le istituzioni, sono gli stati che devono risolvere questi problemi. Non il singolo, non i gruppi, i gruppuscoli. Qua sono gli stati. Qua è l'Europa che per il momento non esiste. L'ennesima riprova del fatto che l'Europa non esiste a sradicare il terrorismo islamico. Con i mezzi che la democrazia mette a disposizione. Non i gruppi di esaltati. Segretario, un giornale italiano nei giorni scorsi ha titolato a tutta pagina bastardi islamici. Lei in un comizio userebbe mai una fratella? No. Però adesso che invece che all'ISIS il processo si faccia al titolo di un giornale mi sembra folle. Quelli di Parigi, quelli di Parigi, gli otto di Parigi che hanno sparso sangue sono dei bastardi islamici. Questo è oggettivo. Perché hanno ammazzato urlando Allah è grande. Fortunatamente il miliardo e mezzo di islamici che ci sono in giro per il mondo non sono tutti così. Altrimenti saremmo rovinati. Altresì è vero che purtroppo l'Islam non è una religione come tutte le altre. Perché è l'unica religione nel nome della quale si taglia la gola al prossimo. Quindi generalizzare è folle, è sbagliato, è suicida. Porsi il dubbio che l'Islam in quanto tale, così come interpretato purtroppo da milioni di persone sia un pericolo per la nostra democrazia è doveroso. Senta, segretario, domani però le comunità musulmane, gli italiani, hanno degli appuntamenti in piazza. Con calma. Lei è stato invitato a partecipare? Parteciperà a queste... Lo stufo di minuti di silenzio in marce per la pace di cocarde, di profili su Facebook. Che l'Islam si dia ordini, si dia regole, e si dia una ripulita e si confronti con le regole del vivere civile. Non partecipo ad altre marce della pace, fiaccolate, sfilate, perché siamo all'ennesimo. Ci sono delle proposte di legge per creare degli albi dove registrare gli imam italiani? Lo proponiamo come lega da tempo e ci dicevano che eravamo islamofobi, volevamo schedare la libertà di culto. Qua non si tratta di libertà di culto. Qua io prima di dare spazio a casa mia a gente che non sottoscrive la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che ritiene che la donna sia inferiore all'uomo, voglio sapere se vuoi pregare, chi paga, chi prega, in che lingua, dicendo cosa. Quindi avere un albo dei predicatori sarebbe il minimo. Ma lei domani non va in Piazza Roma perché l'ha invitata a Ciao Chi o...? No, mi potrebbe anche invitare la persona più simpatica del mondo, che non è il caso di Ciao Chi. Ma è proprio il principio, il principio. sono stufo del lavarsi la coscienza come fanno a Strasburgo. Fanno il Parlamento Europeo c'è il minuto di silenzio. Poi entri nel merito del dibattito, quindi dopo il minuto di silenzio, dopo la fiaccolata, cosa facciamo? Eh, però l'intervento militare no. Ragazzi, allora, con l'ISIS o fai un intervento militare radicale accordando tutti, oppure faremo altre 16.000 fiaccolate, ma stringi, stringi. In questa guerra all'ISIS meglio Obama o Putin? Putin c'è, Obama no. Putin è partito in primo e per primo e nonostante questo l'Europa continua a sanzionarlo, nel senso che oggi, mentre siamo in onda, Putin attacca i terroristi islamici e l'Europa lo sanziona. Cioè, una realtà europea normale toglie le sanzioni contro la Russia stasera e magari si può nel dubbio se non sanzionare regimi che finanziano l'ISIS come l'Arabia Saudita. Io capisco che sia un alleato di qualche potenza occidentale, se però questo alleato porta la morte in casa mia, io sanziono l'Arabia Saudita, non sanziono Putin. Senta, segretario, veniamo un po' ai temi di politica nazionale, perché c'è questo appuntamento importantissimo e per il governo e per le forze politiche italiane delle prossime amministrative. Si vota in città importanti italiane. Ecco, il centrodestra è unito perché tutti questi nomi che escono fuori, cioè sono tutti più o meno di Forza Italia, però i sondaggi dicono che l'unico partito che cresce in elettorato o in potenziale elettori è la Lega. Cioè, non siete un po'... Io sono orgoglioso che la Lega sia riuscita a riunire proprio in Piazza Maggiore a Bologna e il centrodestra presentando agli italiani finalmente un'opzione unitaria di vita prima che di politica a Renzi e alla sinistra. Come Lega non mi faccio forte dei sondaggi, dei risultati elettorali, quindi non vado a pretendere, voglio il candidato Lila, offro il candidato laddove c'è una persona in gamba in grado di vincere, e Bologna è uno di questi casi, altri grandi città no, perché con tutti i miei difetti so giudicare dove abbiamo la possibilità di vincere e dove no e quindi su Bologna... No, a Milano infatti stiamo scegliendo qualcuno che non ha tessere di partito in tasca e neanche della Lega, però per me non è un problema, non è che voglio mettere le bandierine della Lega per il gusto di farlo, però è chiaro che gli elettori in questo momento premiano le idee chiare, concrete, realizzabili che sono quelle della Lega. Le faccio un quadro sulle amministrative, a Roma Marchini che è un civico tra l'altro proveniente da una famiglia di sinistra oppure Meloni preferita a voi, due nomi di Forza Italia al nord, Sallusti a Milano Osvaldo Napoli a Torino, non è che voi vi accontentate delle briciole con Borgonzoni a Bologna? No, noi vogliamo cambiare il volto di queste città, tutte città amministrate male dalla sinistra, Torino, Milano, Roma e Bologna, Merola a Bologna è come Marino a Roma dal punto di vista della capacità di gestire una città e quindi ripeto non pretendo quello che potrei pretendere stando alle leggi della politica offro uomini in gamba che abbiamo ce l'abbiamo su Bologna altri nomi che ho sentito non penso che saranno i candidati nelle città indicate però noi stiamo lavorando sui temi sui temi l'emergenza a Roma ad esempio al di là della sicurezza il trasporto pubblico il traffico la viabilità la qualità della vita quindi prima la vediamo sui temi poi la persona che porterà avanti questi temi è l'ultima delle mie preoccupazioni proprio senta ma Grillo e Grillini possono governare l'Italia? secondo me non vogliono secondo me non vogliono perché in realtà che stanno governando da qualche tempo penso a Parma Civitavecchia Livorno stanno dimostrando basta chiedere ai cittadini di queste realtà la loro totale incapacità e quindi stanno presentando candidati sindaci improbabili un po' in ogni dove secondo me i 5 Stelle non vogliono governare perché non vogliono prendersi responsabilità mentre la Lega stasera governa tre regioni e 300 comuni italiani con suoi sindaci però il mio problema non sono i 5 Stelle che hanno anche avuto delle buone idee di partenza il mio avversario è il partito del non voto del non si può del tanto inutile della rassegnazione e le nostre proposte concrete sulla legge Fornero sugli studi di settore sull'agricoltura sul cambiare quest'Europa sul controllare l'immigrazione parlano a quella metà di italiani che vorrebbero starsene a casa ecco in questa prospettiva diciamo lei ha timore di diventare presidente del consiglio italiano o è pronto? io metterei la firma per farlo domani mattina non tanto perché sono bravo io quanto perché penso che stiamo costruendo una squadra all'altezza dal punto di vista del ministro dell'economia del ministro dell'agricoltura del ministro degli interni del ministro della pubblica istruzione avremo persone in grado di fare meglio quello che stanno facendo i renziani adesso torno sulle amministrative lei ha smentito una parte dei nomi che le ho elencato prima può essere più preciso? ma su Torino si sta cercando una personalità esterna ai partiti sostenuta da tutto il centro-destra perché lì c'è una società civile molto ma non un candidato della Lega però non un candidato di partito no no non vado a chiedere quello che non ho in casa così come su Milano Sallusti è un ottimo nome lo conosco personalmente vive lavora e sente Milano da 40 anni e quindi la conosce sicuramente molto meglio del candidato della sinistra su Roma la partita è aperta perché fortunatamente si stanno facendo avanti altri nomi e quindi non è una corsa riservata senta Napoli i colleghi di Napoli mi riferiscono di sondaggi sulla lista noi con Salvini al 2% ci sarete lo stesso? ci saremo noi siamo appena partiti l'anno scorso dal niente abbiamo preso 40.000 voti in Puglia l'unico sondaggio fatto sul centro e sul sud della SVG su Roma e dalla lista noi con Salvini al 10% pur non avendo sostanzialmente radici e quindi noi ci saremo perché Napoli merita di meglio e sicuramente prenderemo percentuali migliori rispetto a quelle indicate restando su Napoli come giudica la strana coppia De Magistris De Luca? chiedetelo a un napoletano chiedetelo a un napoletano lei si candida a Napoli quindi bisognerà che si occupi di chi sta governando no? sì e la cosa incredibile è che sembra che una possibilità per la sinistra per il dopo De Magistris sia Bassolini quindi invece di andare avanti torniamo indietro di 20 anni bocciati dal mio punto di vista per quello che sento che leggo che mi dicono tanti cittadini campani sia De Luca che De Magistris una cosa sulle alleanze ci sono in capo nel campo del centro-destra che lei sta costruendo anche a mio modesto avviso donando sangue sulle candidature ci sono anche Fitto Tosi che atteggiamento ha verso questi due con Alfano? Alfano no Alfano evidentemente è il ministro dell'invasione quindi è chiaro che alcuni problemi delle città che vanno al voto penso a Bologna penso a Milano sono molto legati all'immigrazione quindi il ministro dell'invasione non ha niente a che fare con la Lega altri propongano cosa vogliono fare con chi perché sicuramente qualcuno che ha usato la Lega per anni e che l'ha salutata per interesse suo qualche mese fa evidentemente non avrà rapporti con la Lega in futuro legge di stabilità il governo Renzi ha detto che finalmente si restituiscono soldi ai cittadini si pagheranno meno tasse ecco sono usciti ieri i dati sulla pressione fiscale sulle imprese e l'Italia è purtroppo la prima in Europa dico purtroppo perché mi piace essere primi su altri fronti nonostante tutte le promesse il Jobs Act le riforme gli 80 euro l'Ira Plimo eccetera eccetera è certificato che fra i 29 paesi dell'Unione l'Italia è ancora quella che tassa di più le sue imprese quindi i suoi cittadini quindi mi sembrano tante chiacchiere ma poco arrosto ci sarà anche la riforma del canone Rai ma è vero lei non lo paga il canone io non ho la televisione se quando ce l'avrò ci penserò non penso che la Rai faccia un gran servizio pubblico c'è una proposta di legge della Lega per destinare il 10% del canone Rai alle televisioni locali che fanno molta più informazione regionale e territoriale rispetto alla Rai il mio modello è quello britannico quello tedesco quello francese se vuoi il canone molla la pubblicità se vuoi il canone limiti la pubblicità perché non puoi avere sia il canone che la pubblicità ma è vero che la Rai fa disinformazione spesso orientata a sinistra come ha detto di recente è il motivo per cui non paga il canone o davvero non ha la tv secondo me non è un servizio pubblico nella stragrande maggioranza della sua programmazione che sia ormai quasi tele Renzi mi sembra evidente a chiunque guardi la Rai senta una finestra su Bologna visto che appunto c'è Lucia Borgonzoni lei oggi ha avuto toni che io ho percepito come ultimativi sulla candidatura della Borgonzoni significa che c'è già l'intesa a livello nazionale quindi come in un puzzle questa casella è sicura? no non siamo al mercato non siamo alle trattative dammi Bologna che ti mollo Torino se mi cedi Trieste mi prendo Matteoli l'altro giorno non ha detto cose molto diverse alla fine del vertice ha detto che in un quadro nazionale si sistemano le città Bologna è Bologna e ha i suoi problemi e noi abbiamo le nostre soluzioni abbiamo il candidato migliore che io non impongo io propongo se il centrodestra ha un senso di unità allora lo dimostri se è il no per il no se qualcuno dice no perché ha i capelli rossi non mi sembra una motivazione se qualcuno ha candidati migliori ce li proponga altrimenti noi andiamo avanti lei è stato il fondatore però dei giovani comunisti padani vuole conquistare Bologna la rossa anche in ricordo del suo trascorso giovanile ritenevo allora e ritengo ancora oggi che alcune battaglie cosiddette di sinistra ormai non siano più patrimonio del PD ma siano portate avanti dalla Lega la battaglia che stiamo facendo da solidani per cancellare la legge Fornero la battaglia per riqualificare i quartieri e le case popolari teoricamente sarebbero di sinistra però Renzi mi sembra che conosca più banchieri che operai e quindi se i valori di certa sinistra li portiamo avanti noi in un momento in cui secondo me le ideologie non c'è più il fascista contro il comunista fortunatamente si superano e allora benvengano alcune battaglie di cosiddetta sinistra la democrazia nel nostro paese è a rischio? no abbiamo gli antidoti basta non arretrare ulteriormente basta non far finta di niente non votarsi dall'altra parte non essere ipocriti ecco l'unico aspetto minimamente positivo del sangue di queste settimane è che mi sembra che ci sia un risveglio di orgoglio anche da parte di intellettuali penso a Galli della Loggia penso a diversi che si stanno ponendo il problema di non arretriamo più a Natale è Natale il presepe è il presepe i nostri simboli non si toccano perché solo forti di una nostra identità possiamo accogliere e integrare altri se noi invece continuiamo a retrocedere gli altri arrivano qua e fanno quello che vuole segretario le ultime domande parliamo sempre dei migranti che continuano ad arrivare adesso le urgenze le emergenze sono alte però i migranti lei ha detto che bisogna controllare bisogna rimandare bisogna frenare bisogna chiudere ecco invece le faccio una domanda cioè questo fenomeno in crescita cioè arrivano sempre più bambini con i migranti senza genitori cioè sono genitori che li buttano lì sui barconi ecco questi bambini a volte anche neonati che facciamo li rimandiamo il dramma è che spariscono l'anno scorso fra gli sbarcati sono scomparsi 5.000 minori che magari sono stati vittime della tratta vittime di speculazioni vittime di esperimenti osceni quindi il problema di andare in Nord Africa a cercare di dare una mano per identificare là chi scappa e chi non scappa e sviluppare i paesi di partenza sradicando il terrorismo da cui scappano è ancora più urgente oggi leggo che Bruxelles ha detto controlliamo le frontiere noi lo chiediamo da due anni eravamo razzisti fascisti xenofobi adesso hanno avuto bisogno di altre stragi per dire che controlliamo chi entra e chi esce torno ancora sulle amministrative a Roma Marchini per voi è una diciamo un vallo di Adriano no no non è mica so che fra Forza Italia e Fratelli d'Italia c'è ampia discussione con il no io non lo conosco non mi permetto di dare dei pre giudizi sicuramente conosco l'avrei incontrato lo incontrerò sicuramente volentieri se gli alleati mi dicono no io li rispetto cosa che mi piacebbe fosse anche dei nostri e invece e invece dell'ultimo arrivato della Valle mi incuriosisce capire che idea che Italia pensa quindi io non dico dei no a priori lo incontrerò volentieri una curiosità domenica in Premier League inglese anche nel campionato francese verrà suonata la Marsigliese lei in Serie A suonerebbe l'ino di Mameli o il Vapensiero la Marsigliese sperando che non ha risposto alla domanda no ma per me io sono per tutti gli inni non sono per togliere sono per aggiungere l'ino di Mameli è parte di una storia di una cultura il Vapensiero è altrettanto parte di una storia di una cultura quindi io non sono per togliere sono per aggiungere a proposito di calcio io spero che visto che squalificano le curve degli stadi per il coro i bù e quelle cose lì spero che la Turchia sia eliminata dagli europei di calcio visto che hanno subissato di fischi il minuto di silenzio per Parigi c'è stata una grande polemica l'ultima domanda uno scrittore francese che dice che forse è meglio sottomettersi no mai 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 non voglio lasciare ai nostri figli un futuro di schiavitù e di paura mai rispetto per tutti accoglienza per tutti ma nelle regole nelle regole quindi o l'Islam cresce o l'Islam matura o l'Islam si attualizza si modernizza oppure ognun per sedio per tutti bene ringraziamo Matteo Salvini se adesso io qui sui tempi televisivi sento anche dai tecnici però c'era diciamo l'intenzione anche di tenere qualche minuto Lucia Borgonzoni ve la lascio ve la lascio a disposizione assolutamente volentieri grazie Matteo Salvini grazie a voi grazie a voi grazie a voi